Facciamo così raga, ragazzi, facciamo così, se arriviamo ai 250 like, raga, vi mostrerò lo skin galaxy in anteprima mondiale, ok raga, calziamo raga Vi ricordo raga, andate nel negozio oggetti, inserite il supporto catore, rtp, tottino basso a me, rettino dylan, dopo che te fate accetta Grazie raga, per chi mi supporterà, vi prego Eee, bella a tutti i pezzi e marie, benvenuti con servizio e io sono messo a dirla, oggi raga, siamo qui raga, in un nuovissimo video, ragazzi, di Fortnite raga, ok In questo video di Fortnite raga, vi voglio spiegare come avere la skin, ok, la skin galaxy, uscirà un torneo, che potranno partecipare le persone che hanno la skin galaxy, ok Come io, raga, io c'ho la galaxy, ok, quindi chi raga, avrà la galaxy, potrà partecipare a questo video, questo torneo, raga Sarà il, inizierà il 25 luglio, raga, ok, quindi raga, dovete prepararvi Di farcela, raga, di, di vincere la skin Ok, ragazzi, noi, io direi, raga, di scendere a Come faccio? Poi, perché io prendi questo forco, se non è fatto di legno, normalmente, cosa devo prendere il forco, è la legna Ok, io non... Ho fatto un guco a sti tappetini, e io vi prendo la scala Managgia il pippo Oh, ragazzi, managgia il pippo Ah, ok, questo... Ah, ok, questo... Qua è buono, raga, perché ha un sacco di roba Alla giù, ma le zanno neanche che riesce a colpirmi Alla giù, ma le zanno neanche che... Ok... Facciamo così, raga, ragazzi, facciamo così, se arriviamo ai 250 like, raga, vi mostrerò la skin galaxy in anteprima mondiale Ok, raga, perché hai il samo, raga La puoi fare bene, quindi... Saluto ai... Saluto ai Samo, raga, se mi stai guardando sto video, Samo Comunque... Allora... Adesso... Spare adesso ho imp... Io, raga, adesso ho imparato ad usare il pompa nuovo Siamo in 23 rimasti Ok... Scusate se non parlo, raga, ma sono state concentrato perché voglio vincere sta partita, raga, devo vincerla No, no, aspetta, aspetta, aspetta Scusatemi, ma questo io me lo faccio Il livello 35, let's go, boys Dov'è il tizio? Scusate stati E' sottotitolo Amr'e il vado Allora... Allora... Ma è un piazza Scusate stati A Scusate stati E' un mincega, vabbè, ci stai, vabbè, gg Comunque, raga Io, raga, vi saluto